Sale a 341 il numero di persone morte a causa del covid nel Samnio durante il ricovero nell'ospedale Sampio di Benevento. L'ultima vittima è una 68enne di Teleseterme che era ricoverata da giorni nel reparto di terapia subintensiva dell'azienda ospedaliera Samnita, dove ora i degenti sono 18. Sul fronte delle vaccinazioni nel Samnio tutto pronto per la somministrazione delle dosi ai bambini dai 5 ai 12 anni. I genitori dovranno però prenotare sul sito della Sorexa e saranno poi convocati dall'ASL presso l'hub vaccinale di Ponte Valentino, che sarà riaperto da giovedì, o nei consultori. Allo studio anche l'ipotesi di effettuare campagne open day per i più piccoli all'interno delle scuole che frequentano, come ha annunciato il direttore generale dell'ASL. Faranno fare le vaccinazioni anche nelle scuole. Nelle scuole quindi partirà oggi una nota a firma mia per tutti i dirigenti scolastici per vedere di fare le vaccinazioni direttamente nelle scuole. Già oggi ho parlato con un preside, con un dirigente scolastico che mi ha assicurato che lui è disponibile a una scuola di 200 bimbi, quindi sarebbe una cosa veramente bella da fare. Sul fronte dei contagi oggi sono stati 26 nuovi casi covid. L'attenzione è rivolta sempre alle scuole, dove si registrano numerose positività.